A Dipartimento di Linguistica c'è un'altra particolarità, la tenda d'azoto che serve per disinfestare libri e documenti attaccati da parassiti e muffe. Un generatore che sostanzialmente estrae l'azoto dall'atmosfera, quindi non c'è un stoccaggio di gas, lo pompa nella tenda d'azoto eliminando l'ossigeno, quindi fai una tenda che va in anossia, quindi toglie l'ossigeno e rende impossibile la vita agli agenti patogeni che hanno infestato i documenti o i libri. E' una delle poche installazioni fisse in Italia, credo l'unica dell'Italia meridionale, e in questo momento è realmente in funzione. Grazie